Volevo dire una cosa soltanto La vogliamo smettere con questa tira e molla del capitano, dell'ex capitano Cammalleri? Si ritira, non si ritira, torna, se ne va, ritorna, viene con i jeans in panchina, poi gioca, gioca bene Che cazza intenzione di fare? La verità è che lui è un giocatore boomerang Nonostante tu lo puoi lanciare, lo puoi far ritirare, ma di lontano torna sempre Ma ha anche fatto un evento di addio, di arrivederci Cammalleri Non è vero, non ce lo ricordiamo nessuno Io non me lo ricordo, io non ce l'ho Annullato nelle memorie Vedi, cosa? Cammalleri, chi è Cammalleri? Tu hai rimosso anche prima, hai fatto un format totale Chi o chi? Grande, Web TV Senti